Ciao a tutti amici sportivi, quest'oggi consueto appuntamento con la schedina del Varesotto, ospiti dell'Isola dei Sapori. Ringraziamo Salvo per l'ospitalità e iniziamo con la schedina. Sestese Tradate, Filucia Tradate in gran forma, mister Ulizio Raza, la sua squadra, 2. Olimpia Ponte Tresa, Magenta, 1. Brebbia Val Ceresio, Filucia Patron Barbarito Francesco, 1. Raza Belfortese, Derby, 2. Filucia al centrocampista Beretta. Leggiuno Laveno, Derbissimo, zone calde della classifica, X. Juve Gemonio, Caravate, altro Derby, X. Ternatese, Cadrezzatese, Filucia al mister più giovane della categoria, mister Antonuccio, 1. Procittillo, Fulcro, Travedona, anche qua Filucia al mister Canzonieri, amicissimo, 1. Chiudiamo con due partite di calcio a 5, A5, Mese contro Varese calcio a 5, 2. Filucia a Bomberta Ormina, speriamo che segni 1-2 gol. E Derbiese, Laveno, calcio a 5, 2. Amici sportivi, questo è l'ultimo appuntamento del 2015 con la schedina del Varesotto. Buone feste, buon Natale. Ci vediamo all'anno nuovo, 2016. Ciao a tutti. 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 Ciao a tutti.